Cielo plumbeo e qualche goccia di pioggia al ritrovo di partenza della 75esima edizione della Vicenza Bionda e la regina delle classiche in linea riservate agli under 23 che anche quest'anno è partita dal quartier generale della Fendt Italia posto a Breganze. Un ritrovo di partenza che ha permesso di raggrupparsi ai 158 atleti al Via, rappresentanza delle migliori formazioni italiane e anche di alcuni team stranieri. Chilometro zero posto invece a Molina di Malo e ad abbassare la bandierina del Via, è stato il presidentissimo della US Bionde Filippo Scipioni in compagnia del sindaco di Salizzole Mirko Corrà. In totale sono 173 chilometri da compiere caratterizzati dal doppio Gran Premio della montagna sulla Priabona e sul Monte Tabor e poi dalle cinque tornate finali di 13 chilometri e 400 metri ciascuna sul circuito di Bionda. Un avvio subito molto veloce per il gruppo dei 158 atleti in gara e a prendere in largo sin dai primissimi chilometri è un'azione tentata da 19 atleti. 19 fuggitivi che guadagnano via via terreno sino al Gran Premio della montagna del Monte Tabor dove transitano con ben 2 minuti e 45 secondi sul resto del gruppo. Un vantaggio decisamente rassicurante per questo gruppetto all'interno del quale sono rappresentate tutte le migliori formazioni e infatti il passo del gruppo è decisamente più lento sul ultimo Gran Premio della montagna di giornata quando mancano ancora 110 chilometri al traguardo. I 19 atleti in fuga sono Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli, Marco Grendene della Sissio Team, Niccolò Parisini e Filippo Baroncini della Beltrami, Stefano Cerisara del Bike Team Nord-Est, Christopher Consolaro Gallina Colosio, Cristian Rocchetta, Tommaso Rigatti e Riccardo Tosin della General Store, Andrea Ferrari della Iseo Rime Carnovali, Gleb Sirizza della Locosfix, Matteo Polo della Named Rocket, Omar Maruan del Team Franco Ballerini, Jacopo Pesenti e Roberto Pasta del Team Palazzago, Matteo Zurlo, Gregorio Ferri ed Edoardo Ferri della Zalfero Mobile Desiree Fior e Davide Baldaccini del Team Colpac. Con le immagini nel frattempo ci siamo già spostati sul circuito conclusivo, quello di Bionde, dunque siamo ormai a meno di 40 chilometri dal traguardo e vedete che l'azione dei 19 atleti prosegue di comune accordo. Il gruppo nel frattempo è segnalato a 3 minuti e 30 secondi dalla testa della corsa. Una corsa che ormai divisa in due quando si è già sul circuito conclusivo dove aspirare c'è anche un forte evento. È qui che viene il primo colpo di scena perché sui 19 battistrada rientrano a 35 chilometri dal traguardo tre atleti. Si tratta di Matteo Baseggio e Pasquale Benante della Zalfero Mobile Desiree Fior e di Enrico Spadini della Iseo Rime Carnovali. Questi tre atleti raggiungono i 19 battistrada proprio nel momento in cui in testa alla corsa, in testa a questi 19 attaccanti della prima ora, si scatena una vera e propria bagarre da cui escono vincitori quattro corridori che riescono subito a mettere una decina di secondi tra sé e gli ex accompagni di avventura. Si tratta di Gregorio Ferri della Zalfero Mobile Desiree Fior, Filippo Baroncini della Beltrami, Gleb Siriza della Locosphinx e Marco Grandene della Sissio Team. Questi quattro atleti riescono a prendere il largo proprio a 35 chilometri dal traguardo. Per loro una ventina di secondi di vantaggio sugli altri fuggitivi della prima ora mentre il gruppo sprofonda ad oltre quattro minuti e sarà costretto a recarsi ai box anzitempo. Si transita per l'abitato di Salizzole tirato a festa in occasione di questa classica delle due province ed è qui che si registra il secondo colpo di scena di giornata. A perdere il contatto dai quattro di testa infatti è Marco Grandene della Sissio Team. Vicentino al primo anno nella categoria costretto ad alzare bandiera bianca quando mancano meno di 30 chilometri al traguardo. Dunque abbiamo tre uomini al comando. Si tratta di Filippo Baroncini della Beltrami, di Gregorio Ferri della Zalfa e di Gleb Sirizza della Locosphinx. Questi tre corridori proseguono di comune accordo mentre alle loro spalle si registra il vuoto. Infatti i più immediati inseguitori tirati dalle maglie della General Store viaggiano con 40 secondi di ritardo. E dunque prosegue l'azione dei tre battistrada che transitano sul rettifilo d'arrivo già cremito di pubblico al cartello dei due giri al termine 25 chilometri ancora da compiere per questi tre coraggiosi battistrada che hanno già sulle gambe più di 100 chilometri di fuga. E qui arriva un nuovo colpo di scena perché alle loro spalle sfruttando un tratto di vento laterale a lanciarsi all'inseguimento dei tre battistrada è un nuovo terzetto composto da Matteo Zurlo, Pasquale Abbenante e Matteo Baseggio, tutti e tre della Zalfa e Romobile Desiree Fiori. Un attacco, quello portato dai ragazzi diretti da Gianni Faresin che cambia gli equilibri anche in testa alla corsa perché Gregorio Ferri inizia a non collaborare più con i due compagni di avventura che lo avevano portato sino a questo momento a comandare la 75esima edizione della Vicenza Bionde. 40 secondi da recuperare per il terzetto bianco-rosso-verde vedete in testa in questo momento Matteo Zurlo seguito da Pasquale Abbenante e Matteo Baseggio mentre siamo con la testa della corsa al suono della campana. Inizia l'ultimo giro, ultimi 11 km da compiere per i tre battistrada che viaggiano con 28 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Il terzetto della Zalfa e Romobile Desiree Fiori applauditissimo sulle strade di Bionde che sta cercando l'impresa. Infatti se questi tre riuscissero a rientrare sulla testa ovvio che cambierebbe la storia di questa 75esima edizione della Vicenza Bionde ma con le immagini siamo già ormai all'ultimo chilometro perché i tre inseguitori rimangono a 20 secondi di distanza dai tre battistrada e dunque la questione per il successo rimane tra Filippo Baroncini, Gregorio Ferri e Gleb Siriza della Locosphinx. Due italiani e un russo, due atleti al primo anno e uno più esperto, il più esperto è sicuramente Gregorio Ferri mentre gli altri due sono al primo anno nella categoria, addirittura per il russo Gleb Siriza il giorno della Vicenza Bionde coincide con il giorno del suo diciannovesimo compleanno e dunque Gregorio Ferri a guidare le operazioni quando stiamo per imbuccare il lungo rettifilo d'arrivo. Gregorio Ferri dietro di lui Gleb Siriza, quindi Filippo Baroncini. Sarà un finale allo sprint, sprint a tre e a dominarlo questa volta è il russo Gleb Siriza, pistard di razza, l'alfiere della Locosphinx prende il comando a 250 metri dal traguardo e non lo molla più. Sua la 75esima edizione della Vicenza Bionde davanti a Filippo Baroncini e Gregorio Ferri mentre ad appena 17 secondi giungono Matteo Zurlo, Pasquale Abbenante e Matteo Baseggio che si dovranno accontentare delle posizioni di rincalzo. Questo è il podio della 75esima edizione della Vicenza Bionde. Primo Gleb Siriza, Russia della Locosphinx, secondo Filippo Baroncini, Beltrami TSA, terzo Gregorio Ferri, Zalfio, Romobil, De Girefio. E festa per questi tre grandi mattatori della Vicenza Bionde sul podio si brinda ovviamente con lo spumante Ruggeri. Filippo Scipioni un podio internazionale per la 75esima edizione della Vicenza Bionde. Direi di sì, una bellissima edizione, abbiamo chiuso le nostre di Platino con un grande campione, un grande vincitore. Il pubblico non è mancato, è arrivato il pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo visto come sempre tanti sportivi e anche sul circuito, quindi è andato tutto bene e quindi noi siamo felicissimi di questo risultato. Ci ritroveremo la prossima edizione, la 76esima edizione il prossimo anno. Mirko Corà, primo cittadino di Salisole, la Vicenza Bionde porta il ciclismo internazionale sulle strade di questo comune che è appassionatissimo di ciclismo. Sicuramente sì, ancora una edizione straordinaria, la 75esima, un'edizione che ha visto nonostante il brutto tempo la gente, gli appassionati arrivare a Bionde lungo la strada. Io auguro questa manifestazione veramente tantissimi altri anni di successi perché comunque porta il ciclismo ad alti livelli in una zona come Salisole che per tanto tempo come amministrazione comunale abbiamo voluto sostenere il ciclismo per Salisole è vita ed è sport.